Non posso non nascondere la mia preoccupazione per la sempre più concreta possibilità di licenziamento di 20 dipendenti della nuova Salento Energia e l'allarme lanciato da Ernesto Abaterusso, consigliere regionale del PD. Parliamo di lavoratori che da giugno sono stati collocati in ferie forzate e ai quali già da tempo è stato chiesto il sacrificio di ridurre le ore di lavoro. Dopo il danno però è arrivata anche la beffa con l'avvio delle procedure di licenziamento. Una situazione determinata dall'approvazione della riforma del Rio e dalla legge di stabilità che hanno di fatto tolto potere e risorse finanziarie alle province cadendo come una mannaia sul futuro dei lavoratori. A niente sono serviti finora i tavoli di concertazione ultimo in ordine di tempo quello dello scorso 28 agosto presso la sede di Confindustria. Una situazione in un momento di crisi come quello che sta attraversando il nostro paese che deve imporci una riflessione e un'assunzione di responsabilità perché il Salento già abbastanza sofferente non può permettersi di perdere anche questa battaglia. Mandare a casa 20 lavoratori ha sottolineato Abaterusso vorrebbe dire rischiare di far cadere in una crisi senza ritorno una società che dovrebbe riuscire ad autofinanziarsi e soprattutto rischiare di non essere più in grado di garantire quei servizi fondamentali che la nuova Salento Energia svolge da anni. Sarebbe un duro colpo, una vera perdita. Il consigliere Abaterusso ha voluto così manifestare tutta la vicinanza e solidarietà a quanti ieri mattina sono tornati a far sentire forte e chiaro davanti alla prefettura di Lecce il grido di esasperazione e rivendicazione di quel diritto al lavoro che troppo spesso viene negato. Non c'è più tempo da perdere quindi perché il 28 settembre è dietro l'angolo. Bene ha fatto il presidente Emiliano a porre come priorità il completamento della riforma a cui questa vicenda è legata. Adesso però dovrebbe chiudere una volta per tutte il cerchio sul testo di riforma delle province evitando così l'apertura di nuove falle. I diversi soggetti interessati, conclude Abaterusso, facciano la loro parte, lo facciano in fretta avendo a cuore le sorti di questi dipendenti e con la consapevolezza che coloro che si occupano della cosa pubblica hanno il sacrosanto dovere di fare tutto ciò che è in loro potere per tutelare il lavoro e dare così alle persone la speranza di un futuro migliore.